Prosegue la protesta di genitori e amministratori di alcuni comuni della Val Pescara che chiedono risposte alla regione sulla carenza di pediatri sul territorio anche a causa di alcuni recenti pensionamenti. La richiesta all'assessorato regionale alla sanità è quello di cercare di risolvere il problema in tempi brevi. La situazione è che in due anni la regione ci ha detto che la colpa era di una normativa nazionale, in due anni la regione ci ha detto che la colpa era dei sindacati, ad oggi noi abbiamo avuto un confronto con il ministero e dal ministero ci è stato detto che la colpa effettivamente è della regione. Noi ne chiediamo uno in più perché sono due soli pediatri per 13 paesi distanti fino a 30 km l'uni dagli altri. Mettersi in macchina un bambino malato che quindi magari si lamenta anche e arrivare fino a 30 km per una visita non è possibile. Una delegazione di genitori ha incontrato sempre questa mattina l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì che ai nostri microfoni spiega quella che oggi è la problematica da affrontare e risolvere. Noi rispettiamo quelli che sono i parametri nazionali, esiste un accordo nazionale in pediatria così come esiste anche un accordo regionale. Abbiamo proprio in questi giorni fatto una sintesi di quali sono i posti scoperti e in quell'ambito non c'è un elemento aggiuntivo, un'unità aggiuntiva di pediatra. Abbiamo incontrato questi cittadini ma il problema non è una simmetria, un braccio di ferro tra la regione e loro perché noi non facciamo altro che mettere in campo quegli indirizzi nazionali. Questi problemi che ha la regione Abruzzo in modo particolare queste zone sono problemi che si ripresentano anche sui tavoli nazionali. Quindi è un problema purtroppo della denatalità della nostra regione e anche qui la regione si è attivata con una legge ad hoc proprio per aiutare il discorso fondamentale della denatalità.